Musica Koki Tegna, Koki Tegna, Kapala, Kapala, Masahidu Mulu, Masahidu Mulu, Kapala, Kapala Abbiamo visto un mucchio di ragazzi, 20-30 ragazzi che sono arrivati dal Giappone, da parte di tutto il mondo Cosa sono venuti a fare qui da Peppe Zullo? Praticamente è iniziato un nuovo anno, un grande anno insomma Perché ogni anno che inizia per me è la vita che continua, è la sfida che va avanti Però poi questa sfida viene premiata, viene premiata da gente che viene da tutto il mondo insomma Abbiamo avuto questo gruppo di ragazzi, circa una trentina, da quattro continenti Alla ricerca di questa Italia, di questa nostra e bella Italia Della cultura, dell'arte, dell'archeologia Però fondamentalmente alla ricerca dell'Italia del cibo Ecco, ma più dell'Italia, della Puglia, di questa Daunia Ecco, di questo luogo dove cresce del cibo straordinario E che tutti ci invidiano E questi ragazzi sono arrivati qua da noi per capire Un po' incuriosito, all'inizio li ho visti un po' curiosi, un po' sulle loro Però piano piano poi quando hanno cominciato a vedere, a scoprire i nostri luoghi Ad assaggiare il nostro cibo, a mangiare e bere il nostro vino Io li ho visti felici, guarda Sono contento E allora è proprio vero che il nostro cibo, il cibo nostro della Daunia Il cibo di Peppe Zullo è il cibo della Felicità Li abbiamo fatti felici Questi torneranno loro a casa loro Perciò dobbiamo essere sempre più convinti che la nostra terra è una terra felice Una terra dalla quale nascono dei prodotti straordinari E che possiamo far felice le persone che ci circondano Però possiamo far felice le persone che vengono da tutto il mondo E che possiamo far felice le persone che vengono da tutto il mondo